Ancora un incidente sulla strada provinciale 565 Piedemontana nei pressi dello svincolo per Bairo nella giornata di martedì 3 gennaio intorno alle 18.30. A scontrarsi un Audi e una Ford Kuga, una terza vettura in seguito all'impatto tra le due è stata parzialmente urtata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vrea e Castellamonte, le ambulanze di base e il soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri di Valchiusa e del nucleo radiomobile della compagnia di Vrea. Feriti i due occupanti dell'Audi, che dopo le prime cure sono stati trasportati all'ospedale di Vrea. Non sono in pericolo di vita. Il leso è l'uomo alla guida della Kuga. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Grazie a tutti.